Fervono i preparativi per il Carnevale a Quarto, organizzato dal Comune di Quarto in collaborazione con la Proloco Quarto, con il patrocinio della città metropolitana di Napoli. Un programma che, come si evince dalle parole del Vice Sindaco e Assessore agli eventi e spettacoli, Annarito Ottaviano, sarà ricco di eventi e iniziative. Abbiamo iniziato già domenica scorsa con l'associazione Gasper, dove ci sono state varie attività sul territorio, una mezza mattinata domenica dedicate ai bambini. Continueremo domenica, lunedì e martedì, dove domenica praticamente si inizierà in villa comunale, si farà una parata e una sfilata sul territorio quartese, che terminerà verso le 15 del pomeriggio. Poi lunedì saremo dedicati, praticamente saremo qui fermi a Piazzale Europa, il pomeriggio con i bambini e l'animazione. E infine martedì una giornata ricca di eventi, dalle 10.30 a 11.00 di mattino fino al pomeriggio. Quindi invito i quartesi, invito la popolazione e i bambini in particolare. Abbiamo invitato anche le scuole, le associazioni e ringraziamo anche la Proloco, in quanto si tratta di un'attività finanziata dalla città metropolitana. Quindi continuo il quartellone degli eventi finanziati dalla città metropolitana nell'ambito del progetto quarto per la legalità. Vi aspettiamo domenica, lunedì e martedì.